ecco il il villaggio piccolo paese di valluisi in francia nella francia dove una volta c'era la presenza valdese fortemente radicata che poi nel quindicesimo secolo è stata praticamente sradicata sedicesimo secolo i valdesi erano qui e c'erano anche qui delle grotte dove si riunivano ecco una chiesa medievale ovviamente cattolica perché la fede valdese è stata stroncata nel modo più violento assoluto e così hola mis amici qui me encuentro in un pequeño pueblito in alpes francesi a unos chilometri di Brianson un pequeño pueblo chiamato valuis dove i valensi viviano 1400 1500 e sono completamente aniquilato e precisamente questa casa, questo commercio, ricorda la presenza valdese con il nome Le Baudois, Le Baudois, Le Baudois, los valdenses e valdesi, è vero che interessante la storia dice che qui in una, in cuevas, grutas in la montagna, pereciero 3000 valdenses questa è una piccola, un gioiello, una piccola di la storia valdense, in francesca yeah l'office del turismo, la villa, poi I love, l'office del turismo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.